Buongiorno e bentornati a Provocazione di Marketing. Stiamo ragionando sulla focalizzazione, sulle parole e stiamo utilizzando questo libro che adesso vi mostrerò come filo conduttore per poterci aiutare a ragionare al meglio su come ottimizzare il nostro marketing nei confronti del mercato. Ecco il libro che ci sta accompagnando, le 22 immutabili leggi del marketing. Come visto ieri ci stiamo occupando della legge della focalizzazione, cioè la capacità di esprimere la nostra forza con una parola. Ieri abbiamo cercato di ragionare su questa parola e oggi vorrei invece affrontare il tema collegato con un altro aspetto della focalizzazione e della parola. Qual è il nostro impegno prioritario? Ci sono tre frasi di questo capitolo che vorrei sottolineare, vorrei condividere con voi per ragionare insieme. La prima è non potete rappresentare una cosa specifica se vi proponete esperti per il tutto. La seconda riguarda la qualità. La qualità totale oramai non serve più a niente. Ed ecco la terza. Una volta che avete la vostra parola dovete fare di tutto per proteggerla all'interno del mercato. Dedichiamo un attimo di tempo a queste tre frasi. Siamo nel mondo della specializzazione, i tuttologhi non servono più a nessuno. Vogliamo essere riconosciuti come autorevoli, come capaci di dare un impatto fondamentale all'azienda degli altri, quindi di poter dare a loro un servizio o un prodotto che sia in grado di fare la differenza. Non possiamo proporci come capaci di risolvere ogni problema, di dare soluzioni ai prodotti per ogni tipo di azienda, per ogni tipo di applicazione. Dobbiamo decidere in quale campo vogliamo primeggiare. Qual è il nostro campo? Che vuol dire a volte anche fare scelte di prezzo. Ci posizioniamo nel settore del prezzo alto o del prezzo basso. Non possiamo avere prodotti o linee di prodotti che coprono entrambi. Devo cambiare nome, devo cambiare qualcosa. Pensate per esempio alle case di moda che hanno i prodotti di alta gamma e poi hanno creato una seconda linea, sto pensando ad esempio ad Armani con l'Emporio Armani, per i prodotti di fascia più bassa. Ma sono due mondi diverse, quasi due aziende differenti. Questo diventa un aspetto chiave. Dove ci posizioniamo noi? Siamo capaci di dire qual è il nostro mercato prioritario, il mercato sul quale incidiamo, il mercato nel quale vogliamo fare la differenza? Qual è la parola che ci caratterizza in questo mercato? E le altre due domande a queste risponderemo domani. Arrivederci!